E' sempre più convinto, Maurizio Battista, comico romano tra i protagonisti di Colorado Caffè Live, cabarettista sui più importanti palcoscenici d'Italia e attore nell'ultimo film di Dario Accocella, si può fare l'amore vestiti con Bianca Guaccero girato nei mesi scorsi a Polignano Amare. Battista torna in Puglia al Teatro Team di Bari carico di rinnovata energia e di antichi ideali per mostrarci le assurdità a cui ci stiamo abituando attraverso un'analisi irriverente e spassuosa dei mezzi di informazione, dei progressi televisivi, dei cartelloni pubblicitari, degli annunci in genere. Come affrontare un dirottamento? Cerca di capire se i dirottatori sono principianti o esperti. Che tu a lei gli fai... è parecchio essere dirottatore. Il suo sguardo scansonato e le sue domande taglienti alternati alle gag e ai monologhi sono gli ingredienti di uno spettacolo esilarante all'insegna della schiettezza e del divertimento, dove la parola semplice e sincera raggiunge le pieghe dell'anima e dove una certa vivacità romana gli permette di sbilanciarsi in una giungla di controsensi ed incongruenze. Si alza uno il genio della finanza e dice signore io sul posto di lavoro ci vengo, ma per lavorare mi devi pagare a parte. Con la lente del suo tagliente sarcasmo mette a fuoco i tanti paradossi dei nostri tempi e sollecita l'ilarità del pubblico che liberato dai normali schemi mentali lo segue nelle spietate analisi sociocomiche tra le quali l'eterna lotta tra uomini e donne. Ho 20 anni sposato e quando mi sono lasciato signora bella ufficio separazione e divorzi a Roma al via di Giulio Cesare la mia ex moglie mi disse speriamo che il giudice mi dà un milione al mese, dico speriamo se è tutto da lui. E per chi se lo fosse perso ieri sera al Teatro Tim il sempre più convinto show di Maurizio Battista torna questa sera al Curcì di Barletta.